ciao da luci oggi insieme vediamo i filatini che mi sono arrivati da merceria italia artisan vi lascio sempre tutto in descrizione quindi link ad ogni singolo filato e il link alla merceria partiamo subito con questi bellissimi filati dopo la sigla eccoci qua col primo filato che è veramente un filato spettacolare ovviamente lana gatto lana gatto una lana italiana un marchio italiano veramente molto molto bello qui abbiamo un filato della linea luxury quindi un filato molto molto pregiato ecco qua lana gatto quarzo vediamo il colore prima vi do tutte le specifiche e poi vediamo insieme il filato il colore questo che è un color ruggine è 90 27 vi dico che è 56 per cento poliestere 22 per cento mohair 14 per cento nylon e 8 per cento lana vediamo ora il filato che è stupendo guardate a questo filino lo vediamo proprio bene 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 da vicino molto sottile guardate che bello molto lucido ea queste bellissime micro paillettes che assolutamente non si sentiranno durante la lavorazione veramente un filato spettacolare al tatto non si sentono le paillettes non è un filato che punge pizzica gratta è veramente molto molto morbido al tatto eccezionale mi piace tantissimo vediamo se ci dà indicazioni su ferri o uncinetto allora ferri e uncinetto qui mi dicono numero 3 secondo me anche un tre e mezzo se si vuole una lavorazione più ariosa o si sia una mano molto stretta ogni gomitolo è da 50 grammi per 220 metri quindi veramente una metratura molto molto ampia quindi questo era il nostro primo filato lana gatto linea luxuri quarzo eccoci qua con un altro filato italiano questa volta lana grossa ed è il nuvoletta e mai nome più fu più azzeccato perché veramente una nuvola morbidissimo guardate come lo posso strizzare veramente è bellissimo ora vi do le caratteristiche poi lo vediamo insieme allora è un 42 per cento alpaca 42 per cento lana merino 16 per cento poliammide ogni gomitolo da 50 grammi da 250 metri udite udite 250 metri veramente una metratura importante per 50 grammi ci dice che per lavorarlo dobbiamo usare ferri un cinetto 45 in effetti io per questo tipo di filati consiglio sempre un cinetti un po grossi per evitare vista la loro pelosità che a lavoro ultimato vi dia un effetto infeltrito ovviamente se non è l'effetto che volete avere però questo è il mio consiglio guardate veramente un filato spettacolare questo colore è lo 003 è un color io direi fango si potrei potrei ma noi fango più sul grigio forse un nocciola si può essere un nocciola veramente un bellissimo filato vedete il filo è molto ritorto con questa pelurietta che lo avvolge veramente un filato spettacolare questo era nuvoletta di lana grossa con questo filato giustamente abbiamo un problema di inquadratura perché guardate le dimensioni di questo gomitolo se possiamo chiamarlo gomitolo è perché veramente gigantesco guardate qua è veramente queste sono le mie mani e non arrivano neanche a coprirlo tutto è veramente un filato ne allora si chiama colora 500 lane di qualità adesso andiamo a vedere tutto è un cento per cento acrilico e pesa la bellezza di mezzo chilo per 1500 metri veramente un gomitolo gigantesco il colore che ho qui io è il 115 vediamo i ferri e uncinetto consigliati tre e mezzo quattro io vi dico che il 4 va più che bene anzi se avete una mano stretta potrebbe andare bene anche il quattro e mezzo in questo caso io ho un bellissimo color sinape vi dico che al tatto risulta molto morbido ovviamente il gomitolo in questo momento è talmente grosso che anche molto come si dice stretto quindi avvolto in maniera stretta quindi non si riesce molto a schiacciare ma è veramente di dimensioni importanti questo gomitolo io direi che su questo non mi devo neanche soffermare più di tanto vediamo che è un filato ben ritorto non è un filato lucidissimo ma non è neanche uno di quei filati proprio opachi opachi quindi è una via di mezzo poi dipende da quello che dovete fare e dai vostri gusti a me per esempio piacciono i filati piuttosto lucidi però questo ha una buona luminosità pur essendo un effetto matt devo dire che mi piace moltissimo questo era il color a 500 questo filato che vado a presentarvi non ho un gomitolo perché io ho già iniziato il mio nuovo progetto e quindi il gomitolo ce l'ho ma è iniziato e ho usato i gomitoli che avevo in mio possesso sto attendendo che mi arrivi il resto perché il progetto che avevo studiato era un altro poi mi piaceva tantissimo questo colore e ho deciso di farci una maglia una maglia un po contestata perché qualcuno mi ha scritto che ho copiato la maglia di qualcun altro effettivamente vero io ho copiato la maglia di qualcun altro della mia mamma perché mia madre mi faceva spesso essendo lei magliaia maglioni con la parte centrale liscia e le maniche lavorate con il raglan diagonale quindi devo dire la verità ho copiato la mia mamma se devo citare qualcuno cito lei questo bellissimo filato questo bellissimo ciclamino è di lana gatto quindi torniamo sulla qualità italiana di lana gatto made in italy e si chiama calico calico il colore che io e il 12 549 calico un filato molto molto morbido e la sua composizione è 50 per cento lana merino 50 per cento acrilico io lo sto lavorando con un uncinetto del numero 4 e potete vedere che la lavorazione risulta ben fitta se la volete più più ariosa vi consiglio anche un quattro e mezzo io avevo già la parte della manica lavorata e di conseguenza volevo che al centro per avere lo stacco maggiore tra la parte lavorata e la parte liscia volevo che fosse ben compatta e di conseguenza ho optato per un uncinetto giusto per avere questo tipo di lavorazione quindi questo filato con questo che sarà il prossimo tutorial era calico di lana gatto ed eccoci con l'ultimo ma assolutamente non ultimo guardate questa colorazione non abbiamo le solite righe su uno sfumato ma macchie di colore sembrano quasi pennellate sembra quasi un tramonto tutto sfumato con una base blu non ci sta tutto nell'inquadratura ma come potete vedere a una base blu e poi sprazzi di colore gettati a caso e mi piace tantissimo ecco qua il gomitolo iniziato anche questo sarà un prossimo progetto quindi ho qui il mio la mia cake perché in queste in questo caso è una cake iniziata e vi dico subito che cos'è rimaniamo sempre sulla na gatto ed è ambra quindi però linea fashion quindi la na gatto a molte linee luxuri la linea classica e poi abbiamo la linea fashion e questa è proprio la linea fashion guardate non si può dire che non sia fashion questo filato perché è strepitoso oltre che essere veramente un filato guardate qui sofficissimo io lo adoro e l'ho adorato da subito vi dico subito che cos'è questo filato le sue caratteristiche allora un 56 per cento lana merino 44 per cento acrilico 150 grammi sono 480 metri dopo vi dico anche la metratura del calico perché mi sembra che non ve l'avessi detta il mio colore è il 90 e il 91 35 veramente una colorazione fantastica ce ne sono tante altre altrettanto bellissime io devo dire che mi sono innamorata di questa guardate anche dell'arancione dentro vi faccio vedere poi tutte le i colori le sfumature ha dentro dell'arancione il blu è la base poi a dell'azzurro ha dentro del ruggine a dentro della del mesciato vedete questo non è un colore è l'arancione misto all'azzurro poi abbiamo il lilla il lilla più sotto qui abbiamo un bellissimo fucsia poi abbiamo dei toni dell'azzurro misto al viola insomma abbiamo degli sprazzi di colore che sono qualcosa di incredibile veramente incredibile questo è un colore che mi ha fatta impazzire questo che vi ho appena presentato era lana gatto linea fashion ambra vi saluto con questa bellissima carrellata quindi abbiamo lana grossa lana gatto lana gatto color a 500 e naturalmente la mia fantasia veramente bellissimo ovviamente ho lasciato fuori il calico perché non ho il gomito lo eccolo qua se non vi avevo detto la metratura vela ridico il calico 50 grammi sono 113 metri ve lo dico perché non so se ve l'avevo detto comunque in descrizione vi lascio i link ai singoli filati i link a merceria italia artisan e quindi potrete visionare i colori disponibili i filati uno per uno naturalmente tutte le loro caratteristiche io vi mando un bacione grandissimo ci vediamo al prossimo video tutorial che sicuramente sarà questa maglia fucsia che io adoro grazie alla mia mamma per avermi ispirata un bacione ciao da luci